Ha ripercorso il suo vissuto particolarmente sofferente e travagliato Rigoberta Menchou. Il premio Nobel per la pace del 1992 è stata l'ospite d'onore all'Università della Calabria del IV Congresso Internazionale dell'Associazione Italiana di Studi Ibero-Americani dal tema Modernismo, Postmodernità, Postmodernismo. Accolta dal vettore Gino Crisci, la Menchou di origine guatemalteca ha raccontato di come in tenera età abbia perso entrambi i genitori e due fratelli nella lotta contro lo sfruttamento delle popolazioni indigene. Da quella terribile esperienza ha preso il via la sua inarrestabile ricerca di giustizia che le ha consentito di entrare a far parte della Commissione per i diritti umani dell'ONU e di aggiudicarsi il Nobel per la pace. Il Congresso, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Ateneo di Arcavacata, in occasione dei 100 anni dalla morte di Ruben Dario, poeta e giornalista del Nicaragua, si è concluso questa mattina con l'Alexio Magistralis di Werner Makenbach dell'Università di Costa Rica. Salvatore Bruno per la Cinews 24.